Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di riordino. Il provvedimento va a modificare alcune leggi regionali rendendole più semplici, aggiornandole alla legislazione nazionale e attualizzandole alla nuova realtà del Piemonte. Tanti i temi toccati, dal turismo allo sport, dal commercio alla cultura, dalle cave all'agricoltura, dalla caccia all'ambiente, dal personale all'assistenza, dall'artigianato alla casa. Tra le molte novità contenute nella legge di riordino, viene reso più efficace l'autorecupero degli alloggi di edilizia sociale da parte di assegnatari e inquilini, garantendo il 100% delle spese sostenute in base a una graduatoria stabilita con bando. Sempre in materia di casa, nella formazione delle graduatorie vengono inseriti tra gli aventi diritto anche i coniugi legalmente separati o divorziati che non dispongano più della casa coniugale per decisione del giudice. In tema di agricoltura, si istituisce un fondo per la prevenzione e i risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. Viene inoltre riconosciuta la possibilità, da parte delle province e della città metropolitana, di utilizzare le guardie venatorie volontarie e i cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica per i piani di controllo della fauna selvatica. Sono tutelate le api e gli altri insetti pronubi attraverso il divieto di usare fitofarmaci e insetticidi durante la fioritura. Tra le altre novità, vengono promosse le proloco e si valorizza la fondazione Teatro Regio. Approvato anche lo slittamento della rendicontazione spese delle bonus Piemonte al 2022. Circa 300 gli emendamenti presentati. Di questi ne sono stati approvati anche alcuni proposti dalle minoranze, l'aumento di alcune sanzioni nel settore delle cave, regole per la partecipazione ai mercatini e la creazione del registro delle disability manager presentati dal Partito Democratico, il sostegno ai centri di recupero per animali selvatici e alcune modifiche alla legge sulla produzione di canapa del Movimento 5 Stelle, la possibilità di utilizzare il voucher scuola per l'acquisto di materiale didattico finora escluso, presentato da Liberi Uguali Verdi.